Ciao a tutti, sono qui per dirvi che oggi mi troverete sul secondo canale, condividerò con voi una storia ancora una volta misteriosa ed insolita, vi mostrerò una foto davvero particolare, ma vi chiedo già comunque di diffidare, nel senso che non è che ogni racconto bisogna condividerlo perché è veritiero o altro, ci sono anche altri tipi di racconti che secondo me è bello condividere perché fanno comunque riflettere, io attraverso i miei video sul mio secondo canale voglio cercare di farvi un po' staccare la testa da quelle che sono le tematiche purtroppo che molto spesso ci fanno stare male, che ci fanno tanto riflettere su tematiche parecchio, parecchio cupe, ecco, quindi vi chiedo semplicemente di godervi quei minuti, in mia compagnia, circondati da quest'area misteriosa, di godervi il racconto, la storia, vi lascerò giù il link per venirmi a trovare sul mio secondo canale, quindi se vi fa piacere oggi mi trovate lì, io vi aspetto, sotto nei commenti comunque fatemi anche sapere quelli che sono i vostri pensieri e ricordatevi che sulla community del secondo canale qualche settimana fa ho lasciato un post in cui vi chiedevo di esporre o comunque di scrivere le vostre esperienze paranormali, ho intenzione nuovamente di dedicarvi dello spazio da questo punto di vista, quindi se qualcuno di voi ha un'esperienza che vuole condividere con gli altri allora la condivida, verrà letta da me in un video poi successivo quando saranno abbastanza da poterle raccogliere e poterci realizzare un video, insomma ragazzi io vi aspetto, vi mando un forte abbraccio, sappiate che non siete assolutamente soli, insomma ci vediamo poi più tardi sul mio secondo canale, link nella info, mi piacerebbe vedervi anche lì però è una vostra scelta ovviamente e nulla, vi voglio tanto tanto bene, vi mando un abbraccio e ci vediamo più tardi.